Ciao a Betes.it! Prima un romanzo di Mei Hachimoku 2019, poi il manga sempre di Mei Hachimoku 2020, poi l'anime diretto da Tomoisa Taguchi 2022. Quindi 2019 romanzo, 2020 manga, 2022 è già un film per cercare di replicare i successi pazzeschi di Makoto Shinkai e le sue storie d'amore all'interno di contesti anche apocalittici in chiave climatica e ovviamente Suzume e Your Name, il grandissimo successo di Shinkai. Che bello anche questa industria dell'animazione, mentre noi stiamo in ricostruzione, speriamo, con Zero Calcare, che bella questa industria dell'animazione che insegue i successi o comunque che cerca di creare un filone. Ancora i giovani in amore, a differenza delle storie di Zero Calcare, a cui manca completamente la passione e quindi invece qui che bello, che bello il romanticismo, che bello l'amore tra giovani, che bella anche questa storia. Si intitola The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, un titolo abbastanza complicato per una storia invece molto semplice. Siamo in una città immaginaria e siamo in una stazione bellissima davanti al mare dove i treni non passano mai, nonostante si stia in Giappone che sono anche più precisi degli inglesi, perché spesso i cervi vengono uccisi dai treni e ci sono dei ritardi. Qui si incontreranno due ragazzini, lei viene da Tokyo, lui è un disperato e che bella che è la figura del femminile artista, il femminile più idiosincratico del maschile, il femminile più anche violento del maschile. Le mie amatissime Sandra Weuter e Nora Moon, le straordinarie protagoniste di Anatomia di una caduta e di Past Lives, si inserisce vicino a loro Anashiro Hanzu, questa ragazza scorbutica, spavalda, problematica, manesca, che arriva da Tokyo in questa cittadina in mezzo al nulla e come Gina Malone con Jake Gyllenhaal in Donni d'Arco subito colpisce questo ragazzo che sta lì. I due si incontrano in questa stazione, lei è molto respingente, per non dire antipatica, ma in realtà c'è tutta una storia dietro. Lui è gentilissimo, va in giro con un ombrello di plastica ed è, mi piace molto, sembra proprio la mitologia comparata di Campbell che faceva impazzire Lucas quando andava alle sue lezioni, mi piace moltissimo che in diversi paesi del mondo, tranne l'Italia, ci sia questa stessa linea di enfasi del femminile in una chiave di pericolosità idiosincratica e di eccentricità violenta all'interno della drammaturgia che di solito ha occupato sempre il maschio. È come ovviamente il personaggio di Robert De Niro di New York, New York, l'artista fumantino e imprevedibile, mercuriale, è donna oggi. Questo mi esalta. Tutti lo fanno tranne l'Italia, prima o poi ci arriveremo anche noi, noi, no, l'abbiamo cominciato a fare anche noi con chi? Con Valeria Golino, con l'arte della gioia che è una serie molto importante perché è l'unico.